Un coro di no contro l'ipotesi di realizzare un centro commerciale nell'area di Centicolella alla periferia ovest dell'Aquila, decisa con una delibera di giunta del 18 febbraio avente per oggetto la variazione della destinazione d'uso di Centicolella da zona per attrezzature direzionali a zona per attrezzature commerciali. L'Aquila e il suo tessuto commerciale, o meglio ciò che ne è rimasto, non hanno bisogno di un ulteriore grande contenitore e per di più in una zona già satura di attività di grossa distribuzione. Ritengo invece che tutti insieme, istituzioni e associazioni, dovremmo confrontarci per il rilancio del settore e soprattutto per favorire il rientro in centro storico delle attività commerciali. Così scrive il presidente della Confesercenti per l'Aquila e Comuni del Crateresismico Mario Antonelli, in una lettera indirizzata al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, e all'assessore all'attività produttiva Alessandro Piccinini. Nella lettera il nuovo direttivo di zona della Confesercenti chiede un incontro con il Comune, ma si fanno sentire anche tanti politici, tra cui l'ex sindaco Massimo Cialente, per un coro trasversale di opposizione al progetto. Preoccupate anche diverse associazioni, Italia Nossa, Archeoclub, Slow Food, Zero Rifiuti, Pro Natura e Frazioni Fraintese, che tornano contro la delibera. È un nuovo centro commerciale, è l'ennesimo centro commerciale in zona ovest, che non risponde a nessun tipo di programmazione e pianificazione, non risponde a una domanda, quanti matriquari sono necessari, quanti matriquari di commerciale vogliamo fare rispetto al tessuto socio-economico, ci sono degli studi su questo, non ci si improvvisa. Si parla di rivitalizzare il centro storico dell'Aquila come centro storico delle frazioni, con i negozi di vicinato, e un nuovo, l'ennesimo centro commerciale va in direzione totalmente opposta. Ci lamentiamo sempre che gli unici posti di aggregazione rimangono in luoghi commerciali, perché ci si rivede solo lì, quando invece vorremmo che tornassero a esserlo le piazze, piene di funzioni diverse, non commerciali e altri servizi, zone dedicate alla cultura, e invece si va ancora in quella direzione, quindi ci sembra in totale disaccordo con quello che vorremmo per la città.